In una disciplina come la Formula 1 caratterizzata da un incessante processo evolutivo e ripetuti cambi regolamentari, Pirelli è chiamata a produrre tecnologie di frontiera capaci di adeguarsi al meglio ad innovazioni e variabili. In ordine di tempo gli scarichi con soffiaggio sul fondo hanno focalizzato l'attenzione di tecnici e commissari. Di fatto rappresentano un vantaggio aerodinamico in diverse configurazioni ma parallelamente impegni di pneumatici a livello termico con stress elevatissimi. La soluzione con soffiaggio davanti alle pance è la più efficiente. I gas combusti ad oltre 1000 gradi scorrono per tutta la lunghezza del corpo vettura incrementando la deportanza ma quando investono i pneumatici posteriori ne aumentano la temperatura non solo a livello superficiale del battistrada ma anche quelle interne di carcasse spalla. Una seconda soluzione più aggressiva sulle coperture prevede collettori con terminale esterno direttamente integrato sul fondo. L'espulsione dell'aria rovente è a pochi centimetri dal pneumatico condizione che non permette ai gas di disperdere calore. L'area di espansione interessa principalmente la spalla sulla quale viene localizzato uno straordinario picco termico di 150 gradi. Il sidewall è certamente l'area più esposta all'inalzamento delle temperature realizzato in materiali compositi che assicurano il giusto livello di elasticità al pneumatico e soggetto a veri e propri tormenti termici che non alterano le caratteristiche di funzionamento e affidabilità dell'intera struttura in tutti i suoi componenti. Garanzia di esclusivi standard di sicurezza, prestazioni e durata anche nelle condizioni d'uso più severe.